Jonathan, o Duplicate, chissà, il titolo alternativo credo che sia questo, è un film del 2018 di Fantascienza, diretto da Bill Oliver, e con protagonisti, forse, Ansel Elgort. Allora, premessa, in realtà questo cast, a parte per due personaggi secondari, mi è praticamente del tutto sconosciuto. Ansel Elgort, in realtà, ho sentito essere, negli ultimi anni, venuto, fra virgolette, alla ribalta, con film della saga della Divergent Series, che credo che sia rimasta definitivamente incompiuta, fondamentalmente le mancava forse l'ultimo tassello, è una cosa che, pur non essendo fan della saga, mi dà fastidio, personalmente, e poi la, se vogliamo, ma neanche protagonista femminile, in realtà, Suki Waterhouse, un'attrice, un'attrice inglese, anche modella, che ha fatto varie cose, ma onestamente, come non conoscevo lui, non conoscevo nemmeno lei. Ma di cosa parla questo film? Buona domanda, in realtà no, abbastanza semplice in realtà. Questo film parla di Jonathan, Jonathan è uno, Jonathan è uno e unico, anzi no, non è uno e unico, in realtà sono due, perché? Perché Jonathan è la storia, il film, è la storia di un ragazzo, appunto, Jonathan, e di suo fratello, John, che hanno una particolarità, dividono lo stesso corpo. Uno è sveglio, rispettivamente, prima Jonathan e poi John sto parlando, uno è sveglio, Jonathan, dalle sette del mattino alle sette di sera, e l'altro, John, è sveglio dalle sette di sera alle sette del mattino. La cosa carina di questo film, che racconta di fatto un po' la vita e la metodicità del nostro Jonathan, ovvero il precisino, quello tutto appuntato, che vagamente mi ha ricordato lo Sheldon Cooper di Big Bang Theory, a dirla tutta, soprattutto all'inizio del film, è che il film esplora, dal punto di vista, quasi del tutto, del solo Jonathan. Noi vediamo la storia di John, noi sentiamo le perplessità, le difficoltà del buon John, però, in realtà, il punto di vista predominante per la qualità di questo film è quello di Jonathan. E secondo me questo è forse uno degli elementi più originali di questo film, che poteva vedere un alternarsi tra i due protagonisti, di fatto interpretati dalla stessa persona, ma in realtà si è scelto di soffermarsi maggiormente su, forse, la personalità che, sebbene la resa dei conti risulti più deboli, in realtà è forse quella più bilanciata, quella che, di fatto, sarà quella a cui bisognerà chiedere, si è sempre chiesto tanto, e bisognerà chiedere tanto, forse troppo, alla fine di questo film. È un film che parte in realtà molto lento, molto metodico. Ci si aspetta di vedere un film, non direi di azione, ma quantomeno non con un ritmo, a un certo punto, rapido. Cosa che, invece, dopo un iniziale sviluppo della premessa fondamentale, appunto, l'iniziale fase di comprensione di come questi due personaggi riescono a equilibrarsi, ad un certo punto passiamo a un ritmo vagamente più frenetico un pochettino, perché le cose, ovviamente, si stanno evolvendo. Sebbene potrebbe essere, da un certo punto di vista, feticisticamente interessante anche soltanto avere uno slice of life di questo personaggio, Jonathan e del fratello, John, in realtà vediamo una fase ben precisa della vita di questi due fratelli, vediamo una frase risolutiva, di fatto. Perché? Perché andando avanti, come in realtà uno ci si potrebbe aspettare, come uno potrebbe aspettarsi, a un certo punto le cose cominciano a stare strette. Cominciano a stare strette perché non è più sufficiente avere il proprio ritaglio di vita, uno è capace ad aver bisogno di più vita, di quella che gli viene data a disposizione. E quindi cosa succede? Quindi non si smette il rapporto di fiducia fondamentale tra le persone e che è fondamentale ancora di più quando sei due fratelli nello stesso corpo. È l'aspetto della fiducia che maggiormente mi ha affascinato in questo film, soprattutto all'inizio, perché è un continuo valutare quanto ci si possa fidare di sé e degli altri. Il tema del fidarsi di sé e degli altri è, per quanto mi riguarda, molto affascinante in realtà. E il tono, cioè il genere fantascientifico di questo film e la premessa sci-fi, appunto, surreale, permette di esplorare in maniera, secondo me, interessante questa cosa. La fiducia è fondamentale quando la situazione è complicata e più la situazione diventa complicata più la fiducia deve essere fondamentale, è fondamentale e soprattutto deve essere reciproca perché se non ti puoi fidare allora tutto quello che hai fatto può venire meno. E quindi cosa può succedere? Può succedere che il rapporto di fiducia si incrina, si incrina quando magari una delle due personalità comincia a sviluppare un rapporto amoroso con una persona, con Elena, interpretata in questo film appunto da Suki Waterhouse. Può esserci una difficoltà quando di fatto questa relazione per necessità, per le regole che sono state imposte o che sono state decise, boh chi lo sa, a un certo punto questa relazione deve interrompersi. Ma magari in un momento di smarrimento e di difficoltà, di distanza fra le due facce della stessa medaglia, in questo caso le due personalità dello stesso corpo, magari c'è un superare il limite. E superare il limite inteso come andare a entrare in contatto con quegli elementi che sono privati, da un certo punto di vista, di solo uno dei due fratelli. E quindi abbiamo Jonathan, in realtà il protagonista predominante di questo film, che sfora, che sfora, che prende contatto con la ex ragazza del fratello e comincia una relazione amorosa con essa. E allora succede il casino, e allora succede il dramma, e allora entra la difficoltà. Entra la difficoltà perché quando ti apri al mondo per certe cose, quando cominci a capire che certe cose le vuoi anche te, e certe cose ti diventano essenziali, in qualche modo, anche se magari fino al giorno prima non lo erano, poi diventa difficile staccarsene, e quindi comincia la difficoltà. E magari la parte apparentemente più debole delle due può soffrire di questo, e può pensare che non ci sia una soluzione, che non ci sia un modo per andare avanti, e può pensare al peggiore degli scenari. Ed è questo che succede, infatti il buon John decide di piantarla lì. Quel dispositivo che in qualche modo aiuta le due personalità, che un tempo furono tre, a detta del protagonista, dispositivo sviluppato dalla dottoressa Mina Nariman, interpretata da Patricia Clarkson, che io personalmente conosco per varie cose, tipo Emilio Verde, oppure i tempi più recenti in House of Cards, magari quel dispositivo è sempre meno efficace, in qualche modo, tiene sempre meno separate le due personalità, e a un certo punto cosa succede? Magari a un certo punto è necessario cominciare a apparsi delle domande, magari è necessario decidere quale dei due. Quale dei due deve avere la possibilità di, di fatto, lasciare andare l'altro, fondamentalmente, e quale dei due è bene che rimanga? È un interrogativo complicato questo in realtà, è un interrogativo per certi versi legato al concetto di eutanasia, se vogliamo, e nella fattispecie, questa fattispecie così fantascientifica, che vede il protagonista, i due protagonisti in realtà interpretati dalla stessa persona e rappresentati e personificati nel nostro corpo, rende il tutto molto più complicato. È interessante questo. Mi è piaciuto, andando avanti nella storia, l'aumento del ritmo, come ho detto, la velocizzazione del ritmo, e i blackout, fondamentalmente, mi sono piaciuti. Mi è piaciuto questa difficoltà di capire sempre di più quando comincia uno e finisce l'altro e viceversa, e mi è piaciuto il frenetico cambio di ritmo che c'è stato subito prima del finale, che in realtà è più lento, sebbene in realtà i flash divengano sempre più rapidi, e tutto sommato, per certi versi, malgrado sia, non dico fantascienza cattiva, perché mi sembra esagerato, ritengo da cattiva, ma sia, per certi versi, ingiusto, ma in alcuni casi, purtroppo, forse la vita lo è anche, ho apprezzato abbastanza il finale. Ho apprezzato abbastanza il finale, che alla fine chiederà tanto al nostro Jonathan, così come in realtà tutta la vita ha chiesto tanto al nostro Jonathan. Carino, carino, un film assolutamente passato in sordina, l'ho recuperato con i sottotitoli perché in Italia non è mai stato doppiato, fondamentalmente, punta tutto, secondo me, non sugli effetti speciali perché sono assolutamente inesistenti, è una fantascienza di tipo concettuale, ma che ultimamente non mi sta dispiacendo affatto. Di recente ho visto un altro film italiano, che punta su questo, se vogliamo, presentato alternativo, fondamentalmente in cui è possibile un elemento così straordinario, spero a meno che sia un presente alternativo perché sennò, mamma mia, stavo alludendo al film Monitor, che ho visto di recente, italiano che aveva uno scenario, diciamo, non distopico, ma uconico, credo che sia un termine più adeguato, tutto sommato, e che mostrava delle questioni sociali, in questo caso psicologiche e filosofiche, anche non da poco. Ecco, è interessante questa cosa e, soprattutto, la fantascienza, in alcuni casi, quando funziona in questo modo, poi getta delle elementi nel film che gli danno la possibilità, magari, di diventare un cult. Secondo me questo film non riesce ad essere cult perché è un po' tanto peso medio, non è così tanto di nicchia, secondo me, malgrado lo sia, e, però, non è proprio quel fare, diciamo, homemade, che lo rendono proprio appartenente a quei film veramente senza budget, che magari possono ambire diventare cult grazie a quella di stacco, di qualità che si è avuta alla fine e i mezzi iniziali che ci sono stati. Secondo me questo film non sarà un cult, non sarà un cult, ma ha avuto delle cose interessanti, e, ultimamente, soprattutto la fantascienza, che, ripeto, in alcuni casi, può avere delle implicazioni, al di là dell'effetto visivo, se vogliamo, molto importanti, ultimamente la fantascienza che mi sta piacendo di più è proprio questa. Morale della favola, consiglio questo film? Assolutamente sì, è un film che parte più lento di come in realtà complessivamente è, ma, fortunatamente, la durata esigua di poco più di un'ora e mezza comunque non fa patire particolarmente il ritmo della narrazione, soprattutto all'inizio, come ho detto, che è differente rispetto al totale del film, e quindi mi sento di consigliarlo, mi sento di consigliarlo in realtà soprattutto all'amante della fantascienza, magari quella indie, ma forse per certi versi anche non di amanti della fantascienza, potrebbero trovare in questo film, che appunto, secondo me, non così da film cult, ma da film medio, una possibilità per magari cominciare a vedere un po' di fantascienza, un po' più low budget, un po' meno puntata sugli effetti speciali e un po' più puntata ai concetti e alle implicazioni concettuali di determinate circostanze che in realtà, riviste in certi modi, potrebbero essere quelle di tutti i giorni. Jonathan o Duplicate, titolo alternativo? Non male, speriamo di trovarne altri di filmetti così pesi medio, magari anche qualcos'altro di ancora più cult.